Ciao, mi chiamo Patrizia, ho 51 anni. Alivare fin qui è stata molto dura, però a rammentarmelo non sono soltanto i ricordi, anche lo specchio. Quando mi guardo non riconosco più il mio viso. Potete aiutarmi? Ecco, questo è un caso molto emozionante, molto profondo e lo abbiamo affidato a Katia Riccerelli. Andiamo a vedere il momento in cui Katia incontra Patrizia e si ha deciso di aiutarla. Ho visto il tuo selfie. Sì. Sei una bella donna. Mi piacerebbe che tu mi parlassi un po' di te. Sono arrivata all'età di 51 anni, 52. Diciamo che non ho fatto nulla mai per me, perché ho avuto sempre da fare per gli altri, per la mia famiglia. Io mi sono sposata giovanissima. Quanti anni avevi? 21. Alla tua stessa età, tua madre? Mio marito ha due anni di più. Appena sei mesi dal matrimonio, purtroppo mio marito si è ammalato. Alla fine è arrivato al trapianto di Reni, si è ammalato di Reni e quindi ho dovuto rimboccarmi le maniche giovanissima. Avevo già un bambino e quando è successo che mio marito si è ammalato e gestire un po' tutta la vita della casa, della famiglia, fare moglie, anche mamma di mio marito, perché mio marito non aveva i genitori. Grazie a tutti.